Nemmeno a Ferragosto possono concedersi di abbassare la guardia sulla città. Vigili del fuoco, forze dell'ordine e operatori di soccorso anche domani veglieranno su Piacenza, ovviamente sperando di poter contare su di una giornata che non debba riservare troppe sorprese. Ormai dopo tanti anni è diventata un'abitudine, con suetudine non ci faccia neanche più caso. Nel pieno dell'estate più anomala degli ultimi anni siamo andati con le nostre telecamere alla caserma dei pompieri di strada Valnure. La frescura di questi giorni e le piogge frequenti hanno evitato le consuete uscite ad omare incendi boschivi. Così i nostri vigili del fuoco ne approfittano per alcune importanti operazioni di addestramento. Il tempo ci ha dato anche una mano, è stato benevole nei nostri confronti, quindi anche gli interventi dovuti a incendi sterpali e così sono ridotti un pochino. Continuiamo i nostri addestramenti professionali. Normale in questo particolare momento si cerca di recuperare un bus che è finito in un canale, quindi il canale è fatto da noi logicamente e il bus dato gentilmente in prestito dalla società di autotrasporti qui di Piacenza. Vediamo un po' di fare questa manovra che sicuramente riuscirà bene. Domani però niente grigliati in giardino o gite fuori porta verso i Lidi Romagnoli. Il lavoro è lavoro e anche a Ferragosto la caserma sarà presidiata a dovere. Una caserma che faticosamente sta diventando sempre più familiare. Non è tanto la nostalgia di Viale Dante, è la nostalgia della struttura che era decisamente meno dispersiva. Questa è logicamente nuova rispetto all'altra, c'è dei vantaggi, c'è degli svantaggi come tante cose nuove.